Salve a tutti, siamo su CultFrenTV, il canale YouTube di CultFrame Artivisive. Ci siamo lasciati ad agosto con un video sulla bizzarra mostra di Carlo Verdone alla madre di Napoli. E ritorniamo su CultFrenTV con un video su un'altra bizzarra questione e di cui sono venuto a conoscenza qualche giorno fa, perché ho il brutto vizio di tenermi informato su ciò che riguarda tutto il campo delle arti visive in Italia, e cioè la presunta creazione di questo Museo Nazionale della Fotografia negli spazi della Triennale di Milano. Ideona, notiziona, veramente sconvolgente, eppure di un ipotetico Museo della Fotografia, almeno qua a Roma si parla da tantissimi anni, convegni, incontri, conferenze, pubblicazioni, bla bla bla, tutto un parlarsi addosso su questa storia del Museo della Fotografia. Adesso addirittura un Museo Nazionale della Fotografia a Milano. Una cosa veramente straordinaria. Allora ho pensato, ci sarà dietro un'idea, un'ideona, un'idea innovativa, che cosa si potrà fare di veramente meraviglioso di nuovo per la fotografia in questo nostro paese. Allora mi vado a leggere le dichiarazioni del Presidente della Triennale, Boeri. Poi ci sono state anche quelle del Ministro Franceschini, ma meno significative, diciamo così. Queste parole sono riportate, per dovere di cronaca lo devo citare, dal sito Art Tribune. Vi leggo le testuali parole di Boeri. Gli archivi del Mufoco verranno spostati in Triennale, che aprirà un grande spazio dedicato alla fotografia e agli archivi di 1500 metri quadri. Oltre a questi 1500 metri quadri, che saranno sempre occupati dagli archivi e da mostre fotografiche, la Triennale potrà decidere anche di utilizzare a rotazione gli altri rimanenti spazi, destinati alla fotografia come si fa oggi per il design. Insomma, avremo a disposizione, quando sarà necessario, un grande spazio. Ideona. Una grande, veramente un grandissimo progetto di un respiro culturale moderno, che guarda il futuro, che analizza con precisione le tendenze contemporanee. Siamo di nuovo alla vecchia solfa. Spostare gli archivi, spazi per le mostre. Poi mi direte, ma ancora una cosa in embrione, ci saranno delle idee che verranno tirate fuori? Magari, speriamo, io dubito, sinceramente. Ma, insomma, diciamo, i dati iniziali non fanno sperare in qualcosa di così innovativo. Innanzitutto, punto numero uno, l'idea del museo è stra-vecchia. Lo ripeto, l'idea del museo è stra-vecchia. Musei, musei, bla bla bla, e musei, festival, musei, festival. Che cosa si fa dentro un museo? Mostre? Forse incontri? Questa è la logica che sta dietro il Museo Nazionale della Fotografia della Triennale? Che senso ha? È un'idea vecchia, sterile, passata. Non se ne può più. E poi, diciamolo chiaramente una volta per tutte. Io lo vado dicendo ormai da anni. La fotografia non può essere collocata in un ghetto. La fotografia fa parte di un territorio molto più ampio. Lo testimonia la grande evoluzione delle arti visive contemporanee, in cui c'è dentro anche la fotografia. Non la si può togliere di mezzo da questa evoluzione, creando questo megaghetto di 1500 metri quadri per fare mostre. Ma chi se ne frega delle mostre? Ma cerchiamo di capire quello che succede in giro per il mondo. Questa idea di museo è vecchia. È inutile. È paracultura già morta prima di nascere. È il funerale, lo ripeto, il funerale della cultura fotografica. Che cosa dobbiamo fare allora? Secondo me dobbiamo guardare a quello che succede a livello internazionale. Togliere di mezzo questa parola orribile, nazionale, museo nazionale della fotografia. Mi viene proprio tristezza, l'orticaria solo a sentire questa parola nazionale. Magari sostituiamola, se proprio dobbiamo usare la parola museo, con un'altra parola internazionale. Quindi noi creiamo un museo che è un ghetto perché è solo per la fotografia. In un altro grande ghetto che è quello della identità nazionale. Non c'è cosa più triste. Guardiamo la fotografia come uno strumento comunicativo e artistico in evoluzione. La fotografia è una forma espressiva giovane. Si sta ancora evolvendo. Cerchiamo di metterla dentro questo territorio, un territorio ampio. Apriamo i nostri cervelli, apriamo le nostre prospettive. e non c'è bisogno di un grande museo nazionale della fotografia, di questo blocco enorme, di questo mostrare muscoli nazionalistici, tra virgolette, nella fotografia. In altri posti in giro per il mondo ci sono dei musei della fotografia, ma magari sono istituzioni più piccole, molto attive, ben organizzate, che producono qualcosa di veramente interessante. Non c'è bisogno, no, di questa retorica del Museo Nazionale della fotografia. È possibile che non viene in mente un'idea innovativa, che non viene in mente un'idea realmente fruttuosa per studiare e ampliare gli orizzonti della fotografia dentro, lo ripeto, dentro le arti visive contemporanee. Ma siamo ancora a questi livelli, in questo paese? Io non so che cosa sarà di questo museo, magari verrò smentito su tutto. Io per adesso ho molta paura. Già la sua definizione è terribile. È già l'idea semplicemente di aprire degli spazi 1500 metri quadri. Ma chi se ne frega, potrebbero essere mille. Bisogna vedere cosa si fa veramente, bisogna vedere quali sono le idee che ci sono dentro, bisogna vedere quali prospettive, bisogna vedere se questo spazio sarà un motore di qualcosa, oppure sarà la solita stantia, idea del museo, con le solite mostre, tutte uguali, che andremo a vedere, fatte nello stesso modo, tristi. Cerchiamo di lavorare in prospettiva. questo è il mio invito. Cerchiamo di produrre idee nuove sulla fotografia. Cerchiamo di capire, di tracciare dei solchi nuovi, di andare in avanti, non di andare indietro. questa storia del museo della fotografia, ripeto, è il funerale della fotografia, lo voglio definire così. Sarà provocatorio, sarà eccessivo, ma io vedo solo un grande funerale, vedo solo una grande massa di persone che come a un tristissimo funerale andranno a vedere delle mostre negli spazi del Museo Nazionale della Fotografia come in un funerale e usciranno più tristi di prima. Vi saluto, vi do appuntamento su Cultframe TV, il canale YouTube di Cultframe Arti Visive. Grazie.